Gentili telespettatori, buona giornata. Non ho ben capito le dichiarazioni di Matteo Salvini, ha fatto la riunione sovranisti europei a Firenze e ha fatto delle dichiarazioni che insomma un vice premier non dovrebbe fare. È andato a dire che l'Europa è occupata da abusivi. Cioè l'Europa, quelli che il Presidente del Consiglio europeo, il Parlamento europeo sono degli abusivi? Come Salvini? Andiamo a vedere, magari è una frase decontestualizzata, andiamo a vedere se veramente ha detto che in Europa ci sono degli abusivi, perché se fosse vero sarebbe veramente da mettersi le mani nei capelli, perché fai un danno a Giorgia Meloni e al governo. Un vice presidente del Consiglio che dice che l'Europa è occupata da abusivi. Hanno vinto le elezioni in Europa, quelli che guidano l'Europa, come abusivi Salvini? E' uno come se dicesse che in Italia governano degli abusivi. Tu cosa diresti Salvini? Ma andiamo a vedere, magari è tutto un grosso equivoco. Allora, l'anno prossimo, dice Salvini, c'è in gioco se non tutto tantissimo. Il centrodestra unito e determinato può liberare Bruxelles da chi la occupa in modo abusivo. Allora, sto cercando le parole, non è che non ho le parole, ne ho tante di paroline, ma sto cercando le parole corrette, per essere elegante nei giudizi e non scendere tipo, oh, I'm bugato. Allora, in Europa hanno vinto le elezioni, l'ultima volta stanno governando, a giugno ci saranno altre elezioni e chi vincerà andrà a governare, ma non è che quelli che c'erano prima erano abusivi, avevano vinto le elezioni e hanno governato. Ecco, perché Salvini non dice andiamo a vincere le elezioni europee, va benissimo, ma se mi aggiungi che quelli che ci sono adesso sono abusivi, ma neanche al bar lo puoi raccontare, perché anche al bar ti guardano male, ma che cacchio dici? Cioè, se vogliamo parlare seriamente parliamo, ma abbiamo già a sinistra Giuseppi, Elena, Landini che dicono cose senza senso, ci mancava anche Salvini da aggiungersi al terzetto e fanno il quartetto cetra, se la cantano e se la suonano, a suon di fesserie, va bene. Matteo Salvini vestito di nero apre la convention di identità e democrazia. Quel termine democrazia, partito democratico e molto poco democratico. Identità e democrazia e ti dice che quelli che stanno governando oggi in Europa sono abusivi. Mi sa che quella parola democratico porta un po' sfortuna, oppure quelli che si mettono la parola democratico nel titolo del partito significa che lo sono un po' pochino di democratico. insomma, 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 insomma. Vabbè, la convention voleva dividere, separare, una volta per tutti i popolari dai socialisti. Va bene. Salvini dice che quella di ieri era una giornata storica. perché? Era qualche festa il 3 dicembre? No. Anniversario particolare? No. Storica perché lui ha fatto la convention a Firenze? Bah, Salvini, giornata storica, insomma. Vabbè, passiamogli la giornata storica, non è importante. Propaganda, va benissimo, va bene. E così i sovranisti europei si riuniscono a Firenze. La presidente del Parlamento europeo, ieri era a Caserta, accompagnata dalla vice Pina Picerno del PD, a chi le chiedeva del raduno, ha risposto che il Parlamento europeo è un'istituzione molto pro-europeista. Salvini, il Parlamento europeo ti stupisci che sia europeista e che deve essere il Parlamento europeo? Una piscina olimpica? Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo una maggioranza in cui lavoriamo insieme e quando andremo alle elezioni ai cittadini dobbiamo proporre una scelta che vada avanti per cinque anni. Sono ottimista. E poi inciuci e sbuffa Salvini che a leggere l'intervista di Gentiloni si stanno già preparando. Ah, quindi quelli che governano oggi sono degli abusivi e in Europa stanno preparando dei complotti. Salvini, insomma, perché parlare di complotti? Perché parlare di abusivi? Non si può fare un discorso normale? No, eh? E quindi niente? no? Eh vabbè, andiamo avanti. Poi Salvini dice sbaglia, sbaglia Tajani, eppure le riunioni di ieri che gli sembrava fatta apposta per confermare di qua e di là. Ci c'erano leader con Salvini dell'ultradestra, di AFD, Tino Chrupalla. Vabbè. Insomma, in questa riunione c'erano un po' di anti-ucraini, un po' di filo, un po' di filo russi. No, ma diciamo che a questo convegno non è che c'erano proprio questi grandi politici europei e quindi contro le sanzioni alla Russia che definiscono una follia, è sbagliato sostenere l'Ucraina, è sbagliato sostenere Israele. Diciamo che in questa riunione c'era tutto il contrario di quello che Salvini fa al governo con la Meloni. Il governo aiuta l'Ucraina e Salvini dice di essere contro, e i suoi colleghi lì. Quindi non ho capito. Salvini dice qui nasce e ci sarà un nuovo rinascimento dell'Europa. L'Europa che sarà? Sconfiggeremo il gigante Golia, il primo nemico dell'Europa. E chi è il gigante Golia? Chi è sto Golia nemico dell'Europa? Sarebbe? Bah. Insomma, non ho capito realmente, non ho capito questo Salvini con questi colleghi europeisti, Europa abusiva, complotti. Salvini, ma che ti succede? Stai retrocedendo al passato? Stai tornando indietro alle quende e le magliette da andare in Polonia, i giubbotti da rally? Bah. Povera Giorgia, con alleati di questo calibro e spessore culturale e politico. Arrivederci a tutti.